E noi siamo allo sport con la palla a volo, c'è grande soddisfazione in casa Sir, Susa, Perugia per l'approdo in semifinale Scudetto dopo una lunga battaglia, quella di ieri sera contro Verona in gara 3 dei quarti. Tutti i commenti con Luca Pisinicca. Io pensavo che il 60% l'avremmo perso questo tie break, gli saremmo dovuto ritornare a Verona, quindi è andata a finire che invece poi a livello mentale la squadra ha tenuto. A livello mentale ha tenuto e grazie anche al pubblico che è stato un grande player in questo finale. Quando la sfida del Palabarton, che sembrava ormai archiviata sul 2-0 Perugia, ha prodato al quinto set anche il numero 1 bianconero e non soltanto lui, era scettico sull'esito finale, quasi rassegnato a dover prolungare la serie. E invece il guizzo dei Block Devils ha scatenato l'apoteosi al Palabarton. Incredibile quanto accaduto in gara 3 dei quarti di finale, un match dai mille volti, ma ancora ci si interroga su cosa possa essere accaduto a Giannelli e compagni. 2-0 il terzo set, abbiamo giocato bene, c'è stata qualche rotazione in cui ci siamo bloccati, poi il quarto ci abbiamo messo del nostro per perdere in quel modo lì, un calo anche di aggressività che non ci deve essere, però ci siamo rifatti bene nel tie break. Quando si comincia a staccare un pochino con la testa, poi la tecnica comincia a mancare, il terzo set abbiamo fatto quello, perché sugli aspetti del gioco che prima riusciamo a essere fluidi, poi il terzo set non lo siamo stati. Su questo dovremo migliorare sicuramente, perché più si avanti più il livello si alza, quindi è un punto di crescita per noi, dobbiamo prenderlo per crescere e per andare avanti. Ora la sera Susavim potrà volersi un paio di settimane di riposo, prima di gara 1 della semifilale playoff Scunetto, in attesa di conoscere la propria avversaria che uscirà dalla sfida tra Piacenza e Milano, con gli Emiliani avanti 2-1. Dobbiamo dire che ci va bene riposare, perché poi ci serviranno altre energie per il futuro, un partito su questo livello, forse ancora il maggiore.